Torna finalmente a sorridere la Fiorentina dopo un digiuno di vittorie che durava da ben 18 gare consecutive in massima serie e finalmente la conquista dei tre punti al Franchi contro la Samp di Di Francesco. Nel turno infrasettimanale sempre ovviamente con quel pizzico di sofferenza inevitabile per tutti quelli che da sempre amano e supportano i colori viola dopo il vantaggio di due gol grazie a Capitan Pezzella prima, bravo a salire in cielo per impattare il cross di Franck Ribéry, altra grande prestazione per il campione francese e a Federico Chiesa poi finalmente autore di una rete. Dopo quella segnatura non concessa lì contro l'Atalanta a Parma per via di una deviazione brava a sfruttare l'assist in volo di D'Albert e a chiudere col piattone destro alle spalle di Audero la solita paura nel finale per via del gol di Federico Bonazzoli ad accorciare le distanze ma questa volta niente riesce fortunatamente a mettersi nel mezzo tra i viola e i tre punti. Francamente potevamo chiudere prima la partita, forse ci siamo un po' rilassati, forse nel finale ci siamo un po' inconsciamente intimoriti tutti, abbiamo visto un po' tutti dei fantasmi probabilmente, forse è arrivata la squadra, non abbiamo sofferto nulla dopo il calcio d'acolo, insomma dopo il gol. Insomma dopo la tanto attesa Vittoria Scazzia Pensieri adesso è il momento di prendere fiducia nei propri mezzi dalle strategie tattiche del mister che deve essere lasciato lavorare perché come lui stesso ha voluto ribadire questa sua nuova fase al timone della panchina giliata è ben diversa da quella della Valiana e soprattutto per i giocatori che pian piano stanno cominciando ad esprimere sul campo un'idea di calcio dando vita ad un'identità di gruppo diventando così consapevoli delle forti individualità che compongono questa squadra. E nonostante le tante energie spese in queste ultime due uscite dalla Fiorentina, nemmeno un giorno di riposo per il plotone di Montella, nemmeno un attimo per rilassarsi e godersi il momento subito in campo infatti per preparare la sfida di domenica sera quando nel posticipo al Meazza i Viola sfideranno il Milan. Di Marco Giampaolo. Abbiamo speso tanto oggi ma secondo me la partita che abbiamo speso di più è stata domenica scorso perché l'Atalanta ti porta a giocare su ritmi altissimi senza intervalli di tempo, senza intervalli durante la partita. Ero molto timoroso di questa partita soprattutto gli esterni nostri e devo dire che mi hanno sorpreso entrambi positivamente come tenuta. Ora mettiamo nel congelatore per un paio di giorni e venerdì rifacciamo la conta per preparare la partita di domenica prossima.